Il gossip da colpi di scena, nozze, VIP incinta, ville di lusso, amori nati e finiti. Gossip, amore al capolineo. Gossip. Settembre si è appena concluso e il gossip è stato decisamente ricco di emozioni, tante situazioni che durante l'estate ci hanno tenuto con il fiato sospeso ora si sono definite oppure appaiono più intricate di un giallo. Andiamo a vedere il gossip pieno zeppo di colpi di scena con, bimbi VIP, nozze in arrivo, VIP incinta, ville di lusso, amori nati e amori finiti per il gossip di un settembre clamoroso. Coppie al capolinea, nuove frecce lanciate da Cupido, ville che i comuni mortali possono guardare solo con il cannocchiale, Francesca Pascale. Coppie al capolinea, nuove frecce lanciate da Cupido, ville che i comuni mortali possono guardare solo con il piaccio, amori nati e amori nati e amori nati e amori nati e amori nati.